Buongiorno e benvenuti a questa giornata dell'analogista. Il mio nome è Lucianella Corbeddu, sono un analogista e mi onoro anche di collaborare con Stefano Benemeglio, padre delle discipline analogiche, e con l'UPDA, che è l'Università Popolare Stefano Benemeglio delle Discipline Analogiche. L'ente che divulga, promuove queste discipline ed eroga anche la formazione dell'analogista, al quale è dedicata appunto questa giornata. Ma chi è l'analogista? È l'esperto integrale delle discipline analogiche benemegliane, è un professionista d'aiuto e un divulgatore delle scoperte di Stefano Benemeglio sull'istanza emotiva e sui linguaggi emotivi non verbali. Per un nuovo, e io amo dire, rivoluzionario stile di vita all'insegna di un'altrettanto nuova filosofia di vita, quella analogica. Ma cosa si intende per filosofia analogica? Beh, è un modello di vita nel quale il mondo emozionale, con le sue regole, le sue esigenze, le sue risorse, acquista un po' la dignità che gli spetta, di fatto, e che la cultura logica e iperlogica che caratterizza il nostro tempo non gli riconosce, spesso considerando questo nostro mondo emotivo, le nostre emozioni, la nostra sfera istintuale, come una sorta di avversario infingardo pronto a tradirci quando meno ce lo si aspetta. Bene, vedremo nel corso dei vari interventi di questa mattinata, di questa giornata, che le cose non stanno esattamente così. È possibile imparare a gestire, a comprendere le nostre emozioni proprio attraverso l'attività dell'analogista, che potremmo definire anche un formatore emozionale. Ma intanto, chi è Stefano Benemeglio e cosa sono le discipline analogiche? Stefano Benemeglio, che ascolteremo in questa giornata, è fondamentalmente uno scienziato delle emozioni. È uno psicologo, un ipnologo, ricercatore, ed ha a suo attivo un poderosissimo patrimonio di scoperte, di studi, pensate a partire dagli anni Sessanta, e tuttora in costante evoluzione. Queste esplorazioni hanno messo in luce tutta una serie di conoscenze, di leggi, di regole e di dinamismi della sfera emozionale, spesso sconosciuti, sconosciutissimi alla sfera logica, ma soprattutto ha anche potuto individuare ben quattro ad oggi sistemi di accesso diretto alla sfera emozionale, che sono un po' la base, diciamo così, operativa dell'attività dell'analogista. Analogia richiama il concetto di ripetizione, di somiglianza. Ebbene, questo è proprio il modo in cui il mondo emotivo, la sfera emozionale, associa fatti diversi tra loro, magari anche separati da un lungo lasso di tempo, ad uno stesso stimolo emotivo. Non so, pensiamo di camminare lungo una strada e di sentire all'improvviso il profumo di una pietanza, che ci richiama subito, non so, l'infanzia, i momenti in cui la mamma preparava quel piatto in momenti particolarmente significativi, ad esempio in un senso o nell'altro, nel bene o nel male. Ebbene, quello stimolo sensoriale richiama immediatamente quello stato emotivo che noi vivemmo, indipendentemente dal tempo passato e dal fatto che quei fatti siano apparentemente del tutto scollegati tra loro. Ecco, questo è proprio la modalità di funzionamento, diciamo così, della sfera emotiva. Questo dunque è il campo di azione delle discipline analogiche benemigliane e dell'analogista, che è un traduttore, è un interprete di queste conoscenze per la promozione di un benessere profondo della persona e della qualità della vita che desidera, per il successo nelle proprie relazioni, per una realizzazione umana e professionale. Questa materia si inquadra nell'ambito delle discipline bionaturali, per il suo approccio olistico e per, olistico nel senso appunto di approccio all'interezza, alla globalità della persona ed anche per il riferimento alla sfera istintuale, quella non mediata dalla sfera razionale. Ecco, quando diciamo non mediata, è esattamente la realtà, è importante sottolineare che nel momento in cui si attiva questa comunicazione con la sfera emozionale, nell'ambito dell'attività dell'analogista, la mente razionale rimane tuttavia presente, vigile per l'appunto, ma non interferisce, è una comunicazione profonda e diretta con la sfera emozionale. Quindi è un'attività originale, diciamo così, quella dell'analogista, connotata in senso squisitamente emozionale. Pensate che durante il percorso che si fa con l'analogista si attivano dei veri e propri negoziati, un doubt des, con questa sfera emotiva, promuovendo e aprendo e scongelando emozioni compresse dal passato, magari lontanissimo, in cambio di nuove risorse, nuovi preziosi potenziali per la vita della persona. Il tutto conduce ad un riequilibrio emotivo, ad un migliore rapporto tra la ragione e le emozioni e quindi anche alla base di una nuova consapevolezza per assumere sempre di più un ruolo di registi della propria vita. Attraverso appunto questa armonizzazione del rapporto pensiero-razionale ed emozioni, ma anche della facoltà di sviluppare quello che noi chiamiamo un sistema emozionale empatico, cioè una capacità di sentire, di intercettare le esigenze profonde emotive in primis di se stessi, perché è fondamentale, ma anche dell'altro da noi, per poter così promuovere un incontro vero, autentico, basato su esigenze profonde, quelle che spesso non affiorano in superficie, ma che poi, come ben sappiamo, nella nostra vita fanno la differenza. Tutto questo passa per una comunicazione eccellente, per l'appunto, ed è una comunicazione emozionale, in grado di scorgere anche il più piccolo segnale rivelatore. Questa professione, come si raggiunge, come ci si arriva, attraverso un percorso formativo che passa per quattro passaggi, quattro corsi di studio, i sistemi induttivi benemegliani, la comunicazione analogica e la filosofia analogica di cui abbiamo già accennato, e la fisioanalogia, che è l'ultimo corso di studi arrivato nel tempo e che studia appunto la relazione importantissima tra la vita emozionale e le risposte del corpo fisico. Questo, indipendentemente poi dall'aspetto naturalmente medico-sanitario, ma si va proprio a vedere le basi emozionali, in che modo quello che noi viviamo poi si riverbera sulla nostra salute. E questo percorso naturalmente conduce poi ad una prova finale di esame, è importante naturalmente avere tutti i requisiti di partecipazione, e una volta abilitato l'analogista risponderà ad un codice deontologico degli analogisti e dei fruitori delle discipline analogiche. Potrà operare con i singoli, con le persone, in studio, ma anche con i gruppi, o nelle aziende, o nello sport, ad esempio, nella divulgazione, nella formazione, ovunque sia richiesta una competenza di tipo emozionale, nella comunicazione emozionale. Questo percorso non intende sostituirsi ad altre discipline relative al benessere e alla salute, può invece integrarsi con altri percorsi laddove sia ritenuto appropriato, senza alcun problema. Questa materia, l'attività dell'analogista, si inquadra ed è disciplinata dalla legge 4 del 2013, una legge che ha interessato moltissime nuove professioni, non organizzate in ordini professionali o collegi. Ma c'è anche una norma proprietaria, la 916, emessa da un organismo certificativo internazionale, che è l'AJA Registrers Europe, accreditato presso Accredia, che è l'ente nazionale certificativo, che ha il compito di definire le competenze e appunto i compiti di queste discipline. All'interno di questa norma è possibile anche per il singolo analogista certificarsi per un'ulteriore valorizzazione della propria attività, per la tutela dei fruitori del proprio operato e anche per tutelare la propria professionalità. È importante segnalare che l'UPDA, che, come dicevamo, è l'ente che eroga la formazione dell'analogista, è patrocinata dal Sinape, che è un'importantissima realtà, un sindacato nazionale, che è in prima linea da molto tempo per promuovere e tutelare le discipline bionaturali, che sono in costante espansione e professionalizzazione. Inoltre, UPDA è anche socia della CNUPI, che è la Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, che è a sua volta riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Bene, a questo punto lascio spazio agli altri interventi, che sono certa, regaleranno affascinanti contenuti, come affascinante, e spero lo sia anche per voi come per me, è il mondo delle discipline analogiche benemigliane e dell'analogista. Grazie.